l'incubblica voi giuseppe il nutella cucchiaio formato famiglia spesa di giugno apri la bocca fatta di nutella youtube youtube ma io vorrei un nutella bocca se è passato nella bocca la parola la parola ma la grande non c'è bisogno di avere coraggio no tra poco ricorda la domanda la mia mamma per quanto riguarda Ha preso la consistenza dell'ostia Ah le ho staccate a spalare